non sopportavo l'ipocrisia che il modo d'essere di chi entra nel quadro come se vi fosse sempre stato dipinto e si confonde con le linee dello sfondo e lascia che le sfumature di un muro d'angolo investano ombreggiando le sue spalle come se quello fosse sempre stato il suo posto come se l'artista l'avesse disegnato lì fin dall'origine in realtà costruisse bene ad essere fuori posto lo sa dentro di sé ma finge di non saperlo e di trovarsi in quel punto preciso per un destino segnato nel gran libro della realtà tanto più che a lungo andare nessuno sarà più in grado di stabilire se il quadro è sempre stato così o se qualcosa qualcuno vi si è aggiunto successivamente nulla nessuno ormai è più in grado di distinguere e se qualcuno lì dentro in quella bella scena dipinta si scorda esso stesso di essere centrato ebbene proprio in quel momento per conseguenza di quella sfortunata dimenticanza la falsità sarà definitivamente assunta al ruolo di verità e avremo una sola parola non due una sola che non può avere significati opposti ecco io invece non tolleravo l'ipocrisia il processo non se ne parlò ma io sapevo che tra tutte le accuse quella sarebbe stata l'unica davvero azzeccata ma al processo si parlò d'altro sempre si parlò di tutto delle mie manie dei miei ritagli di giornale dei miei atteggiamenti del fatto che avevo lasciato il lavoro e che non mi preoccupavo di trovarne un altro del fatto che non accettavo le regole della burocrazia non compilavo i moduli giusti non mi presentavo negli uffici per tempo non rispondevo alle convocazioni non mi comportavo da buon cittadino insomma certo io non potevo rispondere a simili accuse perché non avevo argomenti da contrapporre se anche li avesse avuti nessuno dentro un'aula di tribunale sarebbe stato in grado di comprenderli e comunque non avevo ragioni non avevo le parole giuste non ero in grado di articolare una risposta dovetti accettare le accuse così come erano e affidarmi la clemenza della corte ma di questi tempi le corti di giustizia non amano essere clementi ma un re può essere cacciatore non sarebbe di per sé né una novità né tantomeno un fatto originale la caccia è stata per secoli l'attività prediletta dei signori emblema di nobiltà segno di lontane parentele di sangue con i cavalieri antichi ma al giorno d'oggi la caccia è piuttosto scaduta nella considerazione comune un re cacciatore pare prima di tutto un anacronismo un modo da essere fuori del tempo e poi anche un passatempo sgradevole perché il re cacciatore non si accontentava di qualche occasionale battuta al cinghiale o di una caccia grossa al leono di una caccia piccola al fagiano ma aveva la pretesa di girare armato dentro il palazzo e accompagnato di una coppia di cani da riporto appositamente addestrati per orientarsi fra le scale i saloni e i balconi e gli ampi giardini interni del palazzo e frugare negli angoli più oscuri dove si andavano a ficcare le sue piccole prede conigli lepri fagiani fringuelli o cinghielli appositamente liberati dalle segrete del palazzo perché il re cacciatore potesse sparare i due colpi del suo fucile in ogni momento ad ogni ora del giorno della notte e lasciare poi con gesto soddisfatto che i bossoli schizzassero via dalla fumante doppietta spiegata si potevano trovare ovunque a palazzo come se i servi non avessero nemmeno il coraggio di accoglierli in realtà tanti ne raccoglievano quanto il re cacciatore umberto vittorio umberto secondo ne seminava in un ciclo continuo e inesauribile così il silenzio della notte a palazzo era continuamente infranto da occasionali colpi di fucile tutti coloro che vivevano a palazzo potevano dire con certezza se re era presente o meno bastava prestare orecchio per qualche minuto una coppia di spari avrebbe confermato si può bene immaginare la difficoltà di far uscire il re cacciatore umberto vittorio umberto secondo dal suo palazzo di mandarlo in visita ufficiale cioè di costringerlo a posare l'arma umberto vittorio umberto secondo si rifiutava non poteva separarsi dalla doppietta non poteva stare nemmeno per pochi minuti senza sparare un paio di colpi e prendere qualcosa perché la mira l'aveva buona tutti possono confermarlo a furia di esercitarsi o forse per un talento naturale la mira era buona e predene colpiva continuamente creando così un bel po di problemi alla corte che doveva preoccuparsi di rimpiazzare tutti quegli animali abbattuti il recacciatore divenne a se presto davvero impresentabile sia pubblicamente che privatamente a dispetto della corte di tutti coloro che le avevano scelto e sostenuto sottovalutando questa sua singolare passione tutto il paese borbottava soprattutto coloro che vivendo a palazzo rischiavano di uscire pazzi dovendo sentire di giorno e di notte il rimbombare delle ferre e canne del re cacciatore umberto vittorio umberto secondo e poi il sangue il sangue di tutte quelle prede tutto quel sangue in giro per il palazzo macchie che la solerzia della servitù non riusciva mai a cancellare del tutto creando situazioni di spiacevole imbarazzo quando l'ospite ignaro se ritrovava le scarpe impiastrate e appiccicoso quando d'improvviso appariva una lunga scia di orme nerastre che si sviluppava per le scale lunghi corridoi lucidi sui pavimenti dei saloni talvolta il ribrezzo era così forte da costringere gli ospiti a fuggirse le vie rapidamente nauseati dall'odore di salvatico che impregnava l'aria dal caldo sapore di sangue che colava dai muri i monumenti che furono innalzati umberto vittorio umberto secondo lo ritraevano tutti per espresso desiderio del re con la doppietta sulle spalle o fra le braccia così che potevano apparire quale celebrazione tanto della monarchia quanto della caccia provocando in questo modo un qualche sconcerto nei cittadini che finirono per non amare affatto il re cacciatore talvolta persino ad odiarlo e a provare un brivido sulla schiena e solo sentirlo nominare